Scelga Subito scenderà il mondo qua Non dovrò puntare Ah no Spostati sul mare Spostati sul mare Ruffi un bagnami Allora c'è gente ma sono sulla montagna O comunque altri A casa c'è come faccio Sei a casa tua Ragona Ok Ok parano là sopra non mi muovi non li apressi no no io sto lutando a rua che ha fatto i tag che non è ok il lutto qua è veramente oblobrioso se non forse per questo avviate solo scudone c'è un piccino viola vabbè andiamo via provo a prendermi l'arma delle ninja carters oh cecchino 4 per buono 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 no ma non è vabbè è un tattico infanetti vabbè può essere utile il tattico è più lento c'è gente che si giù che si è buttata vabbè la gente che è caduta si sta paracadutando sta là no non mi ha il tempo di arrivarci sei solo eh non mi ha il tempo di arrivarci vedi qualcuno no stanno in casa io ho pure l'impulso volendo posso andare subito c'è qualcuno al mulino oh hanno preso la macchia è bianco morto l'altro sta là un amico lì si 54 scappa coniglio ho finito di riparare alto andai per l'arma dei tartarugos qui si passi qua passi qua io l'ho eliminato uno ma c'è l'amico da qualche parte che mi spara eccolo dove eh fanno se vai bianco ok forse 7 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 8 8 8 8 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 18 15 15 15 15 15 15 no ce l'ho blu ma da prima non ho preso niente la mia domanda è ma questo in mano teneva l'arma delle tartarughe c'è l'amico che ho ucciso comparsa devo fare materiale devo fare torno subito c'è chi no? si però è quello la con un'ottica piccola ma con la vana allora c'è una così andiamo a quel punto questo qua c'è così ok andiamo si prediction no 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 non c'è nessuno Ok macchina? ah sei tu? motorino dove vado? aspetta eh nel mezzo vai vai da queste parti stesse del duello ma c'è una medaglia ultima pa vai checchino 4 per uuuuh subito non hai colpi cecchino? eh sì ma ne ho 4 cioè ce l'ho pure io quindi eh aspetta io ne ho 3 non c'è ma da ne ho troppo ok basti ne ho guadagnati 2 prima ne ho 3 adesso ne ho 5 ah non ne ho 8 ok non c'è scudone vabbè è stato scudone qua stanno 2 scudone eh? sì sì devo segnare di ho 3 perchè ne ho 1 non c'è eh pensa che dobbiamo andarci no? sì 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 arma delle tattarughe ninja capi? arrivo arrivo thank you la non c'è non c'è non c'è la non c'è la mi piace se andiamo un attimo alla TANA Lasciamo, però... non so Un salto blu, un uccione Mi sa che non ce la fai, vorrà andare giù No, vieni, vieni, vieni Lascio a perdere Ho preso un salto blu Ci sta la... casetta, la? Andate a Gione davanti a noi Vieni qua, vieni qua Noi in lama siamo andati, no? Vieni qua Vieni qua Vieni cecchino? Ah no 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 Te ne fai... oh e te ne vai La cosa è che non l'ho vista la panchetta Isola? Ci proviamo? Andiamo... andiamo a morire È male che vada, se c'è gente ce ne andiamo Almeno la siamo per spostarci Lift qua? So... vabbè, sono più vicino qua Entro Non c'è nessuno È vero Eh non lo metti tu qua Però se ti dico andiamo Se ti dico andiamo, dobbiamo andare Ti ricordi la citazione Quando ti dico scappa Se ti dico scappare tu scappa Lo devo mettere Se ti dico scappare tu scappa C'è le tipiche bellissime Valigetta Potremmo... aspetta, 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 vi faccio una cosa intelligente Si la valigetta qua eh Dai dammi un bel cecchino, dai Salto viola Vabbè, un attimo da ver Il cuore è stato felice in culo Non vi tengo questo Ehm Data veloce Rampino Ah, che lascio? Eh, diamine C'ho tutto quello che mi serve Cecchino, eh Vabbè dai, se lo vuoi dobbia trovare Fa niente No, eh, non posso prendere niente Se no dovrei lasciare gli scudoni Rimaniamo senza cura Eh, che faccio? Ce l'ho assalto viola E' un bel cecchino Va via per ora, vado un attimo qua al bunker Tieni d'occhio la situation Comunque L'agitazione di un addosinalo Oh, qualcuno si è paracadutato Via, 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 via Aaaaah Vabbè che ci abbiamo Aspetta, 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 noi abbiamo la torretta Va lo vediamo Ho ferito Mi sa che se n'è andato, si se n'è andato Se n'è andato via Dove? No, è qualcosa da scendere, credo Eh, lo so, ho capito che cosa Vorrei capire dove è andato Ah, questo non lo so C'è qualcuno lì? C'è qualcuno lì? Wow, per quanto Eh, pure io Ah, quello è il bot No! Questa 10? Andavo da barba, gli ho fatto! Ah, salva! Lo vedo, però non riesco a prenderlo! Mi fa...lo prendo per...per poco non lo prendo! Vabbè, non è andato! No, è spiegato sulla munizione! Ho 12 colpi dentro! Eh, io vedo 6! Eh, andiamo senza... Senza jump! Vabbè, no, fin... Vabbè... In teoria siamo ancora safe sull'isola Sì, voi risolgo, non è un problema Eh, no, vabbè, poi ci dobbiamo spostare, quindi no, via via Signor Dewitt Ok, a tutti! La ultima auto è lì! Ah, poi lo devo girare! Ah, poi non devo girare! E lui! E lui! E lui! E l'opera lì! E lui! L'opera, il piede! Eh, è l'opera! E lui! è bianco, è bianco non lo vedo anche lo vedo bravo, bravo, oh, pompa viola me la faccio questa pizza, me la faccio questa pizza via via, aspetta dici auguri Giulio? auguri Giulio, vai auguri medaglioni, attento attento, attento non ho preso il rambino per avere il cecchino vabbè, vabbè, stiamo comunque in vantaggio perché siamo più avanti di loro il trucco a me è non farci fare mentre saliamo che comunque siamo in vantaggio sento il rumore di una macchina stanno salendo con la macchina li vedo, li ho visti eh li vedo pure, eh, stanno più in alto di noi vabbè, aspetta, noi qua siamo comunque safe non ce la fanno a salire, non ce la fanno a salire 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 ma come odio non ce la fanno a salire ah sì, quei là che tipo si trono la partita ha rovinato tutto ha rovinato tutto si però non erano i medaglioni ce li abbiamo tipo giù i medaglioni e penso stanno salendo credo, non lo so se saliamo stanno qua giù stanno qua giù salendo si, questa è giù rompì oh, dobbiamo andarci dobbiamo... oh, s'an£papapa s'an£papapa s'an£papa s'an£papa s'an① ma la lombia s'an£papa 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 sorsi si, grazie II bella mostra uuuk Altre 4 kg nel finale, fantastico! Bellissimo, 3 kg va bene, va bene, gg! Bellissimo, 3 kg va bene, va bene, va bene, va bene!